Ciao, mi chiamo Francesca Consalvi e in live presto la mia voce a Margarita, finalmente il primo capitolo di live e online sugli audio store. Ciao, ci sentiamo in live. Ma se un libro magico fosse in grado di raccontarti tutta la tua vita e dirti esattamente il giorno in cui morirai, che faresti? È l'incipit di questa colossale trilogia nel mondo del podcast, scritta da Alex Polly. 107 caratteri, 70 doppiatori tra le voci più famose del cinema, musiche originali, mix in Dolby Atmos 8D. Questo è Life, il primo film senza immagini. L'anello di congiunzione tra cinema, podcast e audiolibro. Un'esperienza immersiva straordinaria. Vuoi scoprire Life? Vai su filmsenzainmagini.net per ascoltare il trailer e acquistare gli episodi dal tuo audio store preferito. Grazie a tutti.